Oggi abbiamo ufficialmente aperto il comitato elettorale, un sacco di amici, tante persone che ho a che fare tutti i giorni e tante persone ci vogliono bene. Quindi vi ringrazio tutti perché davvero questa è una grande spinta da tutti coloro che mi hanno chiesto di candidarmi, partito in primis e tutti gli amici che mi sono vicini. Mi candido perché credo di poter dare un contributo a livello regionale, sono un medico di medicina generale, svolgo questa attività da oltre 30 anni, ho fatto il segretario di zona del Partito Democratico e attualmente sono sindaco a Rignano Sull'Arno dal 2012. Mi sono sempre occupato di sanità e sociale, ad oggi le mie priorità anche da sindaco sono quelle di mantenere tutti i servizi possibili alle persone meno fortunate, agli anziani eccetera. Per cui credo che la mia candidatura, se i cittadini mi daranno la loro fiducia, potrà essere utile per mantenere queste priorità che come ripeto sono quelle della sanità, del sociale e aiutare soprattutto le persone meno fortunate.